Può essere buona una scuola che ci crolla in testa? A chiederselo sono i militanti del blocco studentesco e l'edificio in questione la succursale dell'istituto Vittoria Colonna in via Cavour, di cui ci eravamo già occupati qualche mese fa. Tante le lamentele degli studenti che avevamo raccolto in quell'occasione. Cadono le cose dal soffitto. I topi, sì sì. I topi. C'è il muschio da noi. Ad esempio io quando avete fatto un esempio. Ho fatto un presepico. Io quando faccio i popiti in classe sto attaccando praticamente alla colonna, mi cadono i calci, tipo di calcinaccio, si scredono un po' il muro. Adesso a denunciare le problematiche dell'istituto sono i militanti del blocco studentesco che hanno affisso uno striscione proprio davanti alla succursale dell'istituto, chiedendosi se possa essere buona una scuola che crolla in testa. Si riferiscono, come spiega Francesco Crocini, responsabile a rettino del movimento, ad un preciso episodio che sarebbe avvenuto domenica scorsa. Quando nella succursale di Via Cavour, numerosi calcinacci, dice Francesco Crocini, si sono infatti staccati dal tetto dell'edificio scolastico, intralciando l'ingresso della scuola stessa, reso agibile nei giorni successivi solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Ribadiamo ancora una volta, aggiunge poi Aldo Mazzi, rappresentante dell'istituto del Colonna e militante del blocco studentesco, la necessità della creazione di commissioni edilizia all'interno di ogni istituto, costituite da studenti, docenti e genitori che, interagendo direttamente con la regione, cerchino di risolvere le problematiche di ogni singolo istituto. Chiediamo che queste proposte vengano ascoltate ora, prima che sia troppo tardi.